Modi di dire I modi di dire sono espressioni linguistiche che hanno un significato non letterale e che vengono utilizzate per descrivere concetti o situazioni specifiche. Possono essere brevi frasi, proverbi, locuzioni o espressioni idiomatiche che vengono utilizzate comunemente nella lingua parlata. I modi di dire possono essere divertenti, ironici, poetici o saggi e spesso riflettono la cultura e le tradizioni del luogo in cui vengono utilizzati. Esempi di modi di dire includono mettere il dito nella piaga, fare una brutta figura, essere sul piede di guerra, cercare il pelo nell'uovo e molti altri. Perché, si dice, date a Cesare quel che è di Cesare. Da dove deriva il detto, date a Cesare quel che è di Cesare. Secondo la tradizione, Gesù pronunciò per la prima volta questa celebre espressione per sottolineare l'importanza di rispettare le istituzioni terrene, come il pagamento delle tasse, pur mantenendo la fede in Dio. I Vangeli narrano che i farisei cercarono di metterlo in difficoltà chiedendogli se fosse giusto pagare le tasse ai Romani, ma Gesù rispose saggiamente, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Nel corso dei secoli, questo detto è diventato un simbolo della distinzione tra potere temporale e potere spirituale, esortando a riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Adesso vediamo altri 12 modi di dire. Perché si dice scopare? I verbi, più o meno volgari, per indicare l'amplesso sono molti, trombare, copulare, fornicare. Ma il modo di dire più utilizzato rimane scopare. L'origine del termine scopare, con connotazioni oscene, può essere collegata all'uso di vocaboli che si riferiscono a fori e angoli per indicare il sesso femminile, come buco, pertugio, fenditura, ecc. In questo contesto, il pene può essere visto come uno strumento per pulire il foro o l'angolo della donna. Questa analogia è rafforzata dal ritmo del movimento. Perché si dice? Con le palle girate, e, rompere le scatole. Queste espressioni sono un lascito delle trincee della Grande Guerra, ma nonostante affascinanti teorie, la loro origine non è ancora completamente accertata. La colorita espressione si usa quando si è parecchio infastiditi. Ma sapete che questo modo di dire è prettamente storico? Durante la Prima Guerra Mondiale, il termine, palle, si riferiva alle pallottole dei fucili. I soldati italiani utilizzavano il carcano e le munizioni di questo fucile erano considerate poco efficaci. Al fine di aumentarne la potenza di arresto, alcuni soldati estraevano le pallottole dalle cartucce e le reinserivano al contrario. Nonostante l'uso di munizioni con le pallottole girate fosse vietato dalla Convenzione dell'AIA, alcuni soldati ricorrevano a questo metodo. Chi era ritenuto avere le palle girate veniva considerato molto pericoloso, un individuo senza scrupoli che veniva emarginato dagli altri commilitoni. Perché si dice prendere un granchio? Prendere un granchio significa sbagliarsi, commettere un errore grossolano, ingannarsi. Non si direbbe, ma ha a che vedere con il fidanzamento e il matrimonio. Confondere, fare un errore evidente, sbagliarsi, prendere un granchio, o anche, prendere un gambero, è un modo di dire comune in molti dialetti con significati diversi. Spesso viene usato per parlare di un rifiuto amoroso, in cui essere respinti corrisponde a, prendere il granchio, simile a, prendere un due di picche, oggi. Il significato dell'espressione si è esteso, includendo qualsiasi errore, delusione o valutazione errata. L'immagine del pescatore che tira sulla rete sperando che sia piena di pesci trovandovi, invece, soltanto un granchio. Perché si dice che una fake news è una bufala? È un modo di dire che sembra risalire all'antica Roma, perché i macellai disonesti vendevano carne di bufala spacciandola per quella più costosa di manzo. Quando i clienti si accorgevano dell'inganno, esclamavano, ma questa è una bufala. Questa espressione si trasformò poi nel linguaggio romanesco con il detto, a rifi la, na bufola, che significa ingannare qualcuno. Da qui deriva il significato più recente di diffondere una notizia falsa o esagerata come se fosse vera. Le fake news sono notizie false o gonfiate, bugie. Ma come si è arrivati a dire, è una bufala. Secondo il vocabolario della Crusca, il termine, bufalo, dal latino bubalus, ha acquisito l'accezione truffaldina grazie a un antico modo di dire italiano, menare altrui per il naso come un bufalo. Questo significava ingannare qualcuno con facilità, proprio come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare per l'anello al naso, senza opporre resistenza. Perché si dice, a luci rosse, è legata al sesso. Locali, film, quartieri a luci rosse. Ma perché si dice così? Tra le diverse spiegazioni, la più diffusa chiama in causa i ferrovieri degli Stati Uniti che frequentavano i bordelli. Il colore rosso è universalmente associato all'amore, alla passione e al desiderio sessuale. Una spiegazione comune è legata ai ferrovieri americani che, intorno alla metà del 1800, usavano a pendere delle lanterne rosse fuori dai bordelli che visitavano abitualmente. Un'altra spiegazione riporta al testo biblico che menziona Rahab, una prostituta attiva a Gerico, legata alla finestra con una cordicella scarlatta. Oppure, la tradizione potrebbe essere collegata ad Amsterdam, famosa per il suo quartiere del peccato, dove le prostitute un tempo attiravano l'attenzione dei clienti, soprattutto pescatori, con lampade coperte da stoffe rossastre. Questo non solo le rendeva facilmente riconoscibili, ma le faceva apparire anche più belle e affascinanti, grazie alla luce rossa che ammorbidiva i lineamenti e nascondeva eventuali imperfezioni fisiche. Perché, si dice, essere un pesce fuor d'acqua, trovarsi fuori dal proprio ambiente naturale può causare disagio, impedendo di inserirsi o modificare la situazione a proprio vantaggio. Questo concetto viene spiegato con l'analogia del pesce che, una volta fuori dall'acqua dove non può respirare, si trova in una situazione difficile. Questa frase ha ispirato fiabe in cui un coraggioso pesciolino cerca di esplorare nuovi orizzonti, seguendo la sua curiosità e il desiderio di crescita, tipici dei bambini che non temono il pericolo e sognano avventure. Perché, si dice, avere grilli per la testa, avere mille grilli in testa, concepire pensieri strambi, desideri eccentrici, fantasie bizzarre. L'insetto che salta con velocità e agilità rispetto alle sue dimensioni diventa quindi metafora di qualcosa che si pone improvvisamente nella mente di qualcuno. La stessa idea del grilletto, delle armi da fuoco, deriva proprio da questa capacità di reazione improvvisa e fulminea. Perché, si dice, lento come una lumaca. Le chiocciole, comunemente chiamate lumache, sono lente come una lumaca. Sebbene siano veloci nel devastare un orto, simboleggiano lentezza insieme alle tartarughe ovunque. Tuttavia, il loro metodo lento e cauto ha anche un lato positivo. Chi è, lento come una lumaca, agisce con estrema cura e prudenza, riflettendo attentamente su ogni azione. Perché, si dice, essere a cavallo. Significa aver superato una difficoltà o risolto un problema. Nel Medioevo, il possedere e utilizzare un cavallo era un privilegio, utilizzato per svolgere attività agricole, viaggiare o combattere in guerra. Salire a cavallo significava un cambiamento nel proprio status sociale e una facilitazione nella vita quotidiana. Il valore dell'animale è testimoniato dal detto, a cavallo donato non si guarda in bocca, che evidenzia il cavallo come regalo importante e significativo. Guardare nella bocca di un cavallo era un modo per valutare la sua salute e il suo valore, insieme alla forza dei piedi, confermando così l'importanza dell'animale nella società del tempo. Perché, si dice, andare in oca. Un pregiudizio comune sostiene che l'anatra sia un animale stupido ma vanitoso, proprio come coloro che scelgono di mettersi in mostra senza motivo. Questo pregiudizio si riflette anche nell'espressione, essere un'anatra, usata per riferirsi a una donna bella ma sciocca. L'anatra è nota per il suo starnazzare e la sua andatura goffa, quindi, essere un'anatra, implica anche trovarsi in una situazione confusionaria, senza una ragione apparente. Perché, si dice, stai fresco. Il 25 marzo del 1300 è considerato dagli esperti della commedia come il giorno in cui Dante Alighieri inizia il suo viaggio attraverso gli inferi e fino al paradiso, perdendosi nella selva oscura. In questa data l'Italia dedica la giornata a Dante Alighieri, dove ci saranno manifestazioni pubbliche. L'espressione, stai fresco, utilizzata oggi per indicare che qualcosa non accadrà, è stata utilizzata per la prima volta da Dante nel 32esimo canto dell'Inferno, riferendosi ai dannati sepolti nel lago ghiacciato di Cocito. Perché, si dice, limonare. Esistono due possibili spiegazioni per l'origine del termine, limonare. La prima ipotesi suggerisce che provenga da un'espressione lombarda, legata alla pratica di vendere limoni a due a due. Questo avrebbe portato all'uso di chiamare le giovani coppie, limoni, e di utilizzare il verbo, limonare, al posto di, baciare. La Treccani propone un'etimologia simile, suggerendo che il termine potrebbe alludere al movimento della mano nello spremere un limone. La seconda spiegazione, invece, fa riferimento al movimento rotatorio necessario per spremere un limone manualmente, che ricorda il movimento delle lingue durante un bacio alla francese. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale e mettete un like se il video vi è piaciuto. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale.